Si è tenuta a Chiari la quindicesima rassegna della microeditoria nella splendida Villa Mazzotti, dove venerdì 10 novembre è stata inaugurata con la partecipazione del sindaco di Chiari Massimo Vizzardi, l'assessore alla cultura Laura Capitanio, il presidente dell'associazione L'impronta Paolo Festa, Ione Bellotti, presidente della fondazione Morcelli Repossi e Daniela Mena, direttore artistico della rassegna microeditoria. Rassegna della microeditoria 2017, abbiamo con noi il sindaco di Chiari Massimo Vizzardi, che sostiene, appoggia la microeditoria e così tutta la città di Chiari. L'ho sempre detto, la microeditoria è una grande occasione per la città, non solo per farsi conoscere all'esterno, ma è una grande occasione perché ci porta tanto ossigeno, perché i momenti di cultura sono sempre importanti, peraltro è una rassegna che si mette sempre in discussione, che si dà nuovi traguardi e noi insieme a loro cerchiamo di accompagnarli in questi traguardi. Quest'anno, peraltro, hanno fatto una scelta nobile, che è quella di dedicare questa microeditoria a Stefano Morcelli, che è colui che ha dedicato una grande biblioteca circa 200 anni fa a tutti i giovani impegnati negli studi. Quindi tutti i momenti di cultura vanno chiaramente aiutati e incentivati. Quest'anno poi, un anno anche con tante attività, tanti laboratori per bambini, ragazzi, adulti, soprattutto con argomentazione il mestiere del libro. La cosa che ci piace di questa microeditoria è che ogni volta si reinventa e ogni volta cerca di fare rete, quindi apprezziamo il fatto che vengono avvicinate sempre nuove realtà, che si cerchino nuovi motivi per cui sperimentarsi, riescono sempre a darsi nuovi obiettivi, a avere sempre fame, questo è un aspetto importante ed è questo motivo per cui noi li accompagniamo. Oggi, questa volta, quest'anno, puntano molto sui giovani, anche sui più piccoli. Avvicinare i piccoli alla cultura, se vogliamo davvero cambiare un po' questo mondo, è essenziale. Grazie al sindaco di Chiari, Massimo Vizzardi. Grazie a voi. In molti visitatori amanti della cultura e del libro, che durante l'evento durato tre giorni, hanno potuto dar sfogo alla ricerca di nuove letture e partecipare a laboratori, conferenze e presentazioni di libri.